Musica Gli striscioni offensivi contro la mamma di Ciro Esposito comparsi all'Olimpico di Roma durante la partita Roma-Napoli. Parole orribili, non sanno cosa significa perdere un figlio, la replica della mamma del tifoso ucciso da un ultra-romanista. Sentiamo Anna Testa. Tutto ciò che verrà ricavato dal libro e magari anche il film, hanno detto anche un film, magari sarà rivolto tutto all'associazione Ciro Vive, la quale associazione già sta lavorando da subito dopo la morte di mio figlio Ciro. E' categorica Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, il tifoso napoletano morto un anno fa durante gli scontri, prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina. Le accusi arrivano dalla curva sud dell'Olimpico nel corso del match Roma-Napoli. Striscioni pesanti con chiari riferimenti alla recente presentazione del libro Ciro Vive. Non resta che il perdono, perché l'odio dove porta? Ad altri morti? Esplicito il terzo striscione sul quale campeggia il sostegno a De Santis per aver sparato a Ciro Esposito. Nonostante gli insulti che mi hanno recato, io mi sono raffermata di più sui miei proponimenti, quindi andrò avanti. Ora si indaga per risalire ai responsabili. In una nota diffusa dalla famiglia Esposito si chiedono sanzioni e squalifiche, ma anche le dimissioni del pool che autorizza gli striscioni negli stadi. Continuerò la mia battaglia per portare pace tra i tifosi. Così la mamma di Ciro Esposito dopo gli striscioni offensivi apparsi allo Stadio Olimpico di Roma. Sentiamo Sandra Cecchi. Non solo il dolore per la morte del figlio Ciro. Il giovane tifoso napoletano, gravemente ferito durante gli sconti della finale di Coppa Italia a Roma il 3 maggio del 2014, è deceduto dopo 50 giorni di agonia. Ora Antonella Leardi, la madre di Esposito, ha dovuto subire anche le offese di un gruppo di ultra giallorossi durante il match di ieri all'Olimpico tra Roma e Napoli. In giurie scritte su grandi striscioni comparsi nella curva sud. Che cosa triste recitavano Lucchi su funerale con libri ed interviste. Il nome della donna non viene mai fatto, ma è chiaramente lei, questa donna minuta ma forte, che dal giorno dei funerali del figlio ha fatto della guerra l'odio tra tifoserie e la sua battaglia personale il bersaglio delle scritte infami. Ed evidente è anche il riferimento al libro Ciro Vive, presentato dalla donna proprio pochi giorni fa. Sono andata dovunque volevano un messaggio di pace. Lo sto portando, lo porterò sempre, anche se molte persone magari non vogliono questo. Mio figlio è stato vittima dell'odio, vittima di persone che non conoscono cosa sia l'amore. Le forze dell'ordine starebbero per individuare, grazie alle riprese televisive, le persone che hanno srotolato striscioni che non sarebbero dovuti entrare nello stadio, ragion per cui il legale della famiglia Esposito ha chiesto provvedimenti severi nei confronti della curva giallorossa. Grande lo sdegno anche tra diversi tifosi romanisti, famosi e non. Grazie a tutti.